Ben trovati, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la crona, che è con l'arresto di uno giovane a Catania, i carabinieri lo hanno sorpreso, innanzi ai lidi della Playa aveva con sé ecstasy, anfetamine, hashish, marmuriano, un vero e proprio market ambulante della droga così è stato descritto, vediamo insieme il servizio che apre il nostro giornale Un incensurato di 30 anni accusato della gestione improprio di un fornito market ambulante di sostanze stupefacenti presumibilmente da spacciare nei locali della movida estiva dei lidi della Playa I carabinieri in borghese lo hanno individuato intorno al 1.30 della notte scorsa, fermato, perquisito e ammanettato mentre si aggirava l'original Cuccaraccia, noto locale di Viale Kennedy, frequentato da migliaia di giovani L'arrestato ha attirato l'attenzione dei militari quando ha inutilmente tentato di disfarsi di una borsa contenente svariate tipologie di droghe confezionate a dose e pronte per essere vendute L'uomo, vistosi scoperto, ha bozzato una reazione ma è stato immobilizzato Negli Slip aveva occultato una imprecisata somma di denaro in contanti e una rubrica ora al vaglio degli investigatori che sospettano possa trattarsi dell'elenco dei clienti da rifornire Droga è stata trovata anche nelle tasche interne di un giubbotto di jeans e del fermato In una tasca interna del borsello sono state rinvenute 58 pasticche di ecstasy 72 involucri di anfetamina, 10 dose di cocaina, 12 di marijuana e una di ascici Una sorta di supermercato dello sballo al minuto di quanti soprattutto ragazzi popolano in lungomare in concomitanza con l'avvio della bella stagione e l'apertura delle discoteche in spiaggia molto in voga durante l'estate Si tratta della prima vera operazione di contrasto allo spaccio degli stupefacenti in questa parte della città L'attività disposta dal comando provinciale dei Carabinieri mira a contrastare il ricco mercato della detenzione smercio di sostanze stupefacenti destinato a crescere durante la stagione estiva Un giro di affari di svariate migliaia di euro al giorno saldamente in mano alla criminalità organizzata la quale rifornisce le piazze di spaccio del capologo Ettenneo e del comune della cintura urbana del Catanese E a proposito di droga, ma questa volta gli agenti delle volanti della questura di Catania hanno sequestrato a carico di ignoti 2 kg di marijuana e 7 g di cocaina Erano nascosti in un condominio di Viale Moncada, dunque a Librino Gli agenti hanno fatto eruzione per procedere ad una ispezione nell'Androne e negli altri spazi condominiali Quattro cantine erano chiuse con lucchetto, sono state aperte Gli operatori hanno notato all'interno di una di esse sopra un mobile delle buste Che contenevano in questo caso la marijuana, poi quantificata in 2 kg Come dicevamo, è una bustina contenente cocaina per 7 grammi Non è stato possibile fino a questo momento risalire ai proprietari Diciamo così di questa droga che è comunque stata sequestrata Primo sbarco di migranti con Matteo Salvini, ministro dell'interno nel porto di Pozzallo Ieri sera a bordo della nave Aquarius sono arrivate 158 persone Quattro migranti sono stati ricoverati in ospedale Due donne in gravidanza, due uomini con bronchite Intanto domani nell'hot spot di Pozzallo, ma probabilmente anche al Cara di Mineo Dovrebbe arrivare il neoministro che sarà in Sicilia anche per degli appuntamenti elettorali Vediamo Appena il tempo di giurare da ministro dell'interno e poi l'annuncio della stretta sul fenomeno migratorio Matteo Salvini mette subito in chiaro le priorità per il Paese La prima occasione per ribadire il no dell'Italia Le modifiche peggiorative del regolamento di Dublino è entrato in vigore nel 2014 E che stabilisce sulla base di alcuni criteri quale Stato debba farsi carico della richiesta di asilo Di una persona giunta sul territorio Sarà proprio in sede europea in occasione della riunione dei ministri dell'UE Un impegno già sancito nel contratto siglato con Luigi Di Maio Che prevede rimpateri vista la quantità di irregolari nel nostro Paese Che sono circa 500.000 Ogni anno 6.000 migranti vengono rimandati nei loro Paesi Grazie ad accordi che l'Italia sigla con i Paesi di provenienza E servono fondi che Salvini ha già individuato per rinforzare questa attività Sottraendoli a quelli per l'accoglienza Definiti dallo stesso vicepremiere un po' troppi C'è poi la questione Libia Salvini dovrà intrecciare i buoni rapporti che fino a pochi giorni fa erano in mano a Marco Minniti Prima devo studiare, ha detto Salvini, senza sbilanciarsi ulteriormente Sui centri di permanenza l'intenzione è quella di istituirne uno in ogni regione La Sicilia è tra quelle che già ne possiede una Caltanissetta E si preannunciano strette anche per le ONG Quelli che vengono definiti i taxi del mare Che non sono mai stati visti di buon occhio Sia da Lega che dai pentastellati Provvedimenti anche sui beni confiscati alle mafie L'obiettivo è quello di creare nuovi posti di lavoro Cercando di rendere migliore una macchina che già funziona Situazione invece assolutamente da rivedere Quella delle forze di polizia già carenti nel nostro paese In più, ogni anno vanno in pensione 3.500 agenti Che vengono sostituiti solo in minima parte Per questo, ha detto Salvini, bisogna rinfoltire e ringiovanire gli organici Cambiamo adesso pagina Doppia scossa di terremoto sull'Etna La scossa più forte di 3.3 della scala Richter La terra torna a tremare in provincia di Catania Due scosse di terremoto sono state avvertite sotto lettere Intorno alle 9.40 di questa mattina La prima di magnitudo 3.3 è stata registrata dai sismografi Dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Nella territorio di Milo Con epicentro a 5 km di profondità Il tremore è stato nettamente avvertito dalla gente Pochi minuti più tardi, alle 9.47 Una nuova scossa di magnitudo 2.0 È stata registrata in territorio di Santa Venerina Con epicentro a 9 km sotto la crosta terrestre Paura tra i residenti, alcuni dei quali si sono riversati in strada Non si segnalano però danni a persone o cose Il fenomeno e le sue eventuali ripercussioni successive Restano al vaglio dell'INGV di Catania Si tratta di un terremoto È stato accompagnato da altre piccole scosse Un totale di 6 L'evento principale ha avuto magnitudo 3.3 Ed è stato localizzato appunto Un chilometro, circa un chilometro Di distanza dall'abitato di Milo A una profondità di circa 5 km Quella è una zona che sismicamente Storicamente è ben nota In quanto ci sono diversi sistemi di faglie Che insistono in quell'area Spesso queste faglie rispondono alla dinamica del vulcano Che non dimentichiamoci Che le teniamo un vulcano in attività persistente E quindi i meccanismi di ricarica Generano tutta una serie di fenomeni Tra cui possiamo inquadrare anche L'evento di questa mattina Quindi è possibile fare una correlazione Con l'attività dell'Etna? Non è una correlazione diretta E in ogni caso non ci attendiamo Nulla di imminente Perché tutti i parametri monitorati Sono nella norma Però fa parte appunto dell'attività Con cui l'Etna si ricarica periodicamente È chiaro che siamo su un vulcano attivo Quindi questi fenomeni possono avere Un'evoluzione in qualsiasi momento A noi non risultano danni Probabilmente avvertibilità abbastanza diffusa E senta, è possibile attendersi anche Nelle prossime ore, nei prossimi giorni Ulteriori situazioni Magari non so, anche di assestamento? Guardi, come lei ben sa Non è possibile fare delle previsioni Però sicuramente Siamo ribadisco Su un vulcano in piena attività Quindi sono possibili ulteriori evoluzioni La maxi-multa imposta Dalla Corte di Giustizia Europea All'Italia Per il mancato adeguamento Delle reti fognarie E dei depuratori nelle aree urbane Peserà per circa 50-55 milioni di euro Sulla Sicilia Lo ha affermato oggi Alfio Larosa Presidente di Feder Consumatori Sicilia Nella nostra regione Dice Feder Consumatori Solo il 17,5% Dei 438 impianti di trattamento Delle acque e refle urbane Sono a norma Mentre gli altri sono privi di autorizzazione Con autorizzazione scaduta Hanno ricevuto un diniego allo scarico La Sicilia registra Secondo Feder Consumatori Il peggiore dato nazionale Relativo al tasso di depurazione Pari al 48,3% Del complessivo Voltiamo ancora una volta a pagina Oggi 2 giugno Festa della Repubblica Si è celebrata E si celebra in diversi In tutti i comuni della nostra isola Con cerimonie più o meno significative Noi partiamo da Cireale Vediamo cosa è accaduto questa mattina In Piazza Duomo La bandiera tricolore Impressata dai vigili del fuoco Del distaccamento di Cireale Che hanno scalato la torre campanaria Della cattedrale Ha tenuto per diversi minuti Gli accesi col naso all'insù Alla parata del 2 giugno Festa della Repubblica Piazza Duomo è stata teatro Della sentita ricorrenza Con una cerimonia sobria ed elegante Qui hanno preso parte Le associazioni degli ex combattenti E darmi oltre centinaia di cittadini E qualche sparuto turista di passaggio Diverse le scuole partecipanti Con gli studenti che hanno letto Alcuni testi di Pietro Calamandrei Insigne giurista Bandiera all'asta Come si conviene in queste occasioni Autorità in prima fila Il commissario straordinario del Comune Salvatore Scalia Con a fianco il Presidente del Consiglio Comunale Rosario Raneri E i comandanti di tutte le forze Dell'ordine presenti in città E' toccato al Presidente del Civico Consesso Raneri Leggere il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Lungamente applaudito dai presenti Apprezzato anche il breve Ma significativo discorso Del commissario Scalia Che ha ribadito L'importanza della Costituzione Tra i diritti Ma anche i doveri La mattinata si è conclusa Con l'inno nazionale E il rinnovo di fedeltà All'istituzione dello Stato Fondamento di democrazia E civile convivenza A volte si ricordano i diritti E non si ricordano i doveri Penso che le cose però stiano cambiando Soprattutto i giovani lo capisco Quello che ho voluto dire Sostanzialmente in queste pochissime battute E' stato che non bisogna dimenticare L'importanza di quello che abbiamo Ogni tanto pensiamo di ricordare L'età d'oro Chissà che cosa Invece Oggi è stata una bellissima cerimonia Anche ci ha visti tutti insieme Tony Sobri Anche nei discorsi ufficiali Conmozione ha suscitato La lettera del Presidente della Repubblica Mattarella dopo le polemiche di questi giorni Scaturita dai ritardi Dai continui colpi di scena Alla formazione del nuovo governo Partendo dalla Costituzione Che va a sottolineare Dei valori imprescindibili Dei valori che dovremmo seguire Giornalmente a tutti i livelli Dal semplice cittadino Fino al capo dello Stato Per così dire Quindi dei valori che Ogni anno noi ricordiamo Con una bellissima festa Ricorenza Che è questa Che organizziamo A Cireale Una ricorrenza Che ogni anno E' sempre più ricca Soprattutto attraverso La partecipazione Della città Attraverso la partecipazione Delle scuole Che vengono qui Numerose A partecipare A questa manifestazione Che trasmette Soprattutto ai nostri ragazzi I valori della Repubblica Della libertà E della democrazia E adesso ci trasferiamo Da Cireale A Catania Ma sempre di 2 giugno Parliamo Anche Catania Ha festeggiato oggi La festa della Repubblica 72 anni fa Gli italiani Per la prima volta Scelsero la nuova forma Istituzionale Dello Stato Ogni anno La ricorrenza Cade il 2 giugno L'anniversario di quando Nel 1946 24 milioni di italiani Furono chiamati a votare Per scegliere la forma Di governo Da attuare in Italia Dopo la fine del fascismo Il 2 giugno È diventato quindi Una festa nazionale E nella capoluogo Etteneo Si è tenuta la consueta parata Alla presenza Delle maggiori autorità Civili e militari Sicuramente Questo è il compleanno Della Repubblica Quindi siamo tutti Qui in piazza Per festeggiarli Senta tanta gente In piazza Testimone che comunque C'è attaccamento Per la nostra Repubblica Secondo me sì Perché ha visto Anche lei C'erano molte persone Fermate un po' per curiosità Un po' forse perché Volevano venire Proprio a questo appuntamento E credo che ci sia Ancora questo sentimento Della Repubblica Ovviamente Sono tempi Completamente diversi Da quelli inquinati La Repubblica Ma i valori ci sono Qual è il senso Di una manifestazione Di questo genere Rispetto al passato Traslata ai giorni nostri Ricordare Prima cosa Quello che è stato Perché il ricordo Collettivo è importante Ma soprattutto Dire che Si è schierati Verso quei valori Di libertà Di democrazia Come ha detto Il Presidente Della Repubblica Di tolleranza Di rispetto reciproco Insomma L'amor proprio Per la patria Resta sempre alto L'amor proprio Per la patria Che secondo me È anche L'amor proprio Per tutti quelli Che vivono Su questo territorio E rimaniamo noi A Catania Perché oggi Sì il 2 giugno Cioè festa Della Repubblica Che come abbiamo visto Nel servizio di Francesco Larosa Si è festeggiato Nel centro cittadino Abbiamo sentito Le parole Del prefetto Di Catania Silvana Riccio Ma è stata Giornata E giornata Comunque Anche di commercio Infatti è stato deciso Malgrado oggi Fosse appunto Giornata Festiva Segnata in rosso Sul calendario Di aprire I mercati I mercati Storici Cittadini Alla stessa strego Di quanto sta accadendo Ad esempio In tante altre Città siciliane Dove oltre Ai mercati È stato consentito In quasi tutti I musei E in quasi tutti I siti archeologici L'accesso Proprio per favorire Da un lato Il commercio Ma anche dall'altro lato Il momento Culturale Che è particolarmente Sentito anche Per la presenza Di numerosissimi turisti Che hanno affollato E stanno affollando Questo lungo Weekend di giugno Peraltro Primo weekend Veramente estivo Anche Per le temperature Davvero calde Che hanno Baciato La nostra regione Dunque dicevamo Dei mercati Storici Aperti A Catania Vediamo com'è andata In tanti Hanno approfittato Oggi della giornata Festiva Per visitare I mercati storici Della pescheria Di piazza Carlo Alberto A Catania Un'apertura straordinaria In occasione Della festività Del 2 giugno Chiesta direttamente Degli operatori Delle due aree mercatali Che altrimenti Sarebbero rimaste Chiuse per due giorni Di seguito Penalizzando così L'attività del settore Stamattina I catanesi Ma anche tanti turisti Non hanno perso L'occasione Per qualche acquisto Conveniente Siamo qua a lavorare Perché ci hanno detto Di essere aperti Oggi Passato alla commissione Di essere aperti Dovevamo essere Tutti quanti a mare Per il signor sindaco Si è stata l'apertura Poi oggi Anche sabato Una se ne approfitta C'è un buon afflusso Anche di turisti Di turismo Sì abbastanza Molto abbastanza Però sono pricchi Nel senso che Non vogliono spendere Lo spendono molto Guardano Vedono il Catania Vedono le bellezze Ma però Siamo pesse Sono più pesse Di noi Ma in generale Come va il commercio Qui alla fiera Malissimo Non c'è parcheggio Non c'è niente Niente di niente Il signor sindaco Anche sta facendo Tutte queste cose Ma ci vogliono Delle cose buone Le avete Per arrivare qua Alla fiera Non solo in pescheria Che sono anche loro Messi male Ma qua Anche abbiamo bisogno Di lavorare Che non c'è niente proprio Come sta andando Oggi Giornata della festa Alla Repubblica Siete qui a lavorare Bisogna lavorare Perché i tempi Ormai non sono più I tempi di una volta C'è crisi Perciò Abbiamo bisogno Di lavorare Però purtroppo Il lavoro È quello che Non c'è Non c'è speranza Dobbiamo lavorare sempre Una giornata come oggi Più catanesi O più turisti Ma diciamo Metà e metà Diciamo Metà e metà Perché il turismo A Catania Si vede Da un paio di anni A questa parte Vorrei che Facessero un po' di più Come a livello di Tutelare un po' Diciamo Il commeccio Dare più Opportunità Diciamo Di paccheggio E Mettere più Diciamo Mezzi Per poter arrivare Nei mercati Per noi Non cambia niente Per noi Il sabato È un giorno importante Quindi Meno male Ci stanno facendo Lavorare Perché Ripeto Il sabato Per noi È vita Completiamo La settimana Ricopriamo Magari Tutta la settimana Per il fatto Che si fa Tutta la giornata Facciamo Rear continuato E quindi Meno male Che si sta lavorando Un po' di confusione C'è Più turisti o più catanesi? Ma qualche turista Si sta vedendo Catanesi ci sono sempre Sperando che Magari Vengono più turisti Possibili C'è La La Metropolitana Che sta funzionando Da qualche annetto Gli autobus Che un pochettino Stanno funzionando Sperando che Magari Si ci organizza Un po' meglio E si risvegli Un pochettino Il lavoro Rimaniamo a Catania Ma per parlare D'altro Parliamo di Coronaca Sindacale Infatti Nei mesi Scorsi ci siamo Più volte Soffermati Sulla situazione Del comando Provinciale De Vigili del Fuoco Di Catania Splendido Per attività Un po' meno Per numero di organi Come anche Per la vetustà Dei mezzi Ieri La visita Del presidente Della regione Nello musumeci Come abbiamo visto Nel corso del giornale Ieri durante la visita La USB Dei Vigili del Fuoco Ha nuovamente lanciato L'allarme Su Catania Vediamo Vigili del Fuoco A Catania Non è tutt'oro Quel che luccica Al di là Dell'abnegazione Di ogni singolo pompiere Che dà Il meglio di sé Per soddisfare Le richieste Degli utenti Quello catanese Come è stato spiegato Ieri al presidente Della regione siciliana Nello musumeci In visita Nel comando Provinciale Etneo E' uno tra i presidi Più importanti E impegnativi Di tutta Italia Sia per numero Di interventi Che per tipologia Di intervento Peccato che il personale Sia inadeguato Nel numero E i mezzi Non brillino Per innovazione In tal senso L'unione sindacale Di base Dei Vigili del Fuoco Di Catania Ha consegnato Al governatore Una lunga missiva Con cui si chiedono Interventi urgenti Oltre che un incontro Al fine di avviare Anche sulla piattaforma Sindacale Un dialogo costruttivo Con la regione siciliana Noi cercheremo In una maniera celere Di riesporre Le problematiche Che ci sono Nel corpo nazionale Dei Vigili del Fuoco Soprattutto in Sicilia Ma Catania Su tutto Che come peculiarità Di territorio È unico Noi abbiamo necessità Di mezzi E di personale Perché sta per arrivare L'estate E noi non vorremmo Che dobbiamo decidere Che dobbiamo salvare Che deve aspettare Perciò questo intervento Nostro oggi È atto A far sollecitare Dal presidente Della regione Il governo nazionale A far sì Che la Sicilia Venga rispettata Come territorio Poi esteso In Italia Il sindacato Punta l'indice Contro l'annosa Carenza di personale Aggravatasi adesso Con il taglio Di una componente Fondamentale Quale è il personale Vigile Di scontinuo Volontario Si tratta di pompieri Che venivano impiegati Nella gran parte Dell'anno In tutte le attività Di soccorso tecnico Urgente Sia ordinario Che straordinario Durante la lunga Campagna estiva Degli incendi boschivi L'immissione In ruolo invece Di questo personale Precario Già formato Professionalmente E con una lunga Esperienza sulle spalle Potrebbe davvero Dare fiato Ad un corpo Ormai Allo stremo E adesso Vediamo insieme Alcune foto Che ci Fanno vedere Di un incidente Stradale Autonomo Che è stato Registrato Questa mattina Intorno alle 5.30 In via Nizzeti A San Nicolò Di Acicatena Un 28enne Alla guida Di una Ford Focus Per cause Da accertare Ma pare Per la velocità Sostenuta Avrebbe perso Il controllo Del veicolo Che viaggiava In direzione Di Catania L'autovettura Ha impattato Contro il muro Per poi Effettuare Una testa coda Per fortuna Il conducente Uscito presso Che indenne Dall'autovettura Che invece Risulta essere Come si vede Benissimo Dalle immagini Parzialmente Distrutta Da Acicatena Ci spostiamo A Daci Sant'Antonio Pochi chilometri Ma per parlare Decisamente di altro Andiamo a conoscere Un campione Di Muay Thai Che appunto Risiede A Daci Sant'Antonio E che Già si impone In varie Competizioni Davvero Prestigiose Sedici anni Da soltanto Otto mesi Pratica Muay Thai Conosciuta anche Come Thai Box Box Thailandese O pugilato Thailandese Un'arte marziale Da combattimento Che si ispira All'antica tecnica Di lotta orientale Ed ha già vinto Due campionati regionali E tre nazionali Il primo Solo dopo Otto settimane Di allenamento L'ultimo Poco meno Di un mese fa A Roma Mostra orgoglioso Le sue medaglie Antonino Larosa Studente Della frazione Sant'Antonese Di Lavinaio Che prima di Natale Ha appeso al chiodo Le scarpe da tennis Con le quali Praticava la break dance Per una folgorazione Improvvisa Per quest'arte marziale Che sta spopolando Da vent'anni A questa parte Anche nel nostro paese La disciplina Nota anche Come l'arte Delle otto armi O la scienza Degli otto arti Utilizza Combinazioni Di pugni Calci Gomitate E ginocchiate E comprende Oltre al Muay Thai La K1 E la kickboxing Tecniche di combattimento E difesa Per le quali Si allena tre volte Alla settimana Un'ora e mezza A lezione Un vero e proprio Garçon prodigia Antonino Larosa Che contemporaneamente Studia psicologia E scienza umana E scienza umana Da Cireale E strizza l'occhio Alla carriera militare Lo incontriamo stamani Insieme a papà Salvatore Anch'egli con un passato Da atleta di kickboxing La sorellina Che lo affianca Orgogliosa Ed i nonni Che lo seguono In ogni suo successo Conseguito Antonino Un passato Da breakdancer Improvvisamente La scintilla Che ti ha fatto seguire Un po' Le orme di papà E adesso Alti livelli Eh sì Ho iniziato tutto Dalla danza Perché lo facevano Pure i mezzi E tutto per autodifesa Mi sono ritrovato Qui a fare I campionati nazionali Dove appunto Ho vinto Che cosa ti affascina Di quest'arte? Mi affascina Innanzitutto Lo stile Appunto Questa La Muay Thai È uno stile Un'arte marziale Thailandese Dove mi piace Utilizzare Non solo I pugni I calci Ma anche Proprio uno stile Con i gomiti Le ginocchiate E quant'altro C'è un Un atleta A cui tu ti ispiri Conor McGregor Perché lui Ha come obiettivo Quello di Rendersi come l'acqua Ce lo spieghi? Certo Allora Il mio appunto Come ha detto lei Il mio atleta preferito È Conor McGregor Che è appunto Un atleta Molto famoso Di MMA Il quale Mi ispiro molto a lui Perché Utilizza una tecnica Che non è come Utilizzano tutti Nel senso Tutto Sempre una stessa cosa Lui appunto Si rifà Bruce Lee Che utilizza La tecnica Dell'acqua Diciamola così Perché appunto All'avversario Lui in quei 30 secondi Che è nel ring All'interno del match Lo osserva E magari cambia Qualche suo difetto Per sconfiggerlo E questo E questo mi è Giovato molto Anche a me Nelle gare Infatti Avversario dopo avversario Le mie tecniche Cambiavano Per non fare Gli stessi errori Otto mesi E già in otto mesi Tutti questi Riconoscimenti Questi titoli A due mesi Già la prima medaglia Ma che cosa Ci dobbiamo aspettare? Beh Credo che La nuova stagione Che verrà Ci saranno Gli europei O magari Se la nazionale Mi chiama Potrei partecipare Pure alle olimpiadi Perché la modalità Adesso Sta spopolando E quindi Verrà messa Pure alle olimpiadi Tu non ti alleni Tante volte Alla settimana Hai Normale Diciamo Orario da palestra Il mio segreto È in quell'oretta e mezza Di mettere Tutto a me stesso Perché Io credo Che se metti Il 110% Negli allenamenti Metterai Il 90% Nelle gare Occhi verdissimi E tanto entusiasmo Per questo giovane Campione Che ha anche ricevuto Una targa Dall'amministrazione Comunale Per l'orgoglio Di avere Tra i suoi concittadini Una promessa Dello sport Che porta alta La bandiera Della Sicilia Nel mondo Per il papà Tanta soddisfazione Fare sport Vuol dire Disciplina E rispetto Verso l'altro Tutto questo Senza trascurare Lo studio Anche come carattere Abbiamo già notato Che non è un tipo Che si mette In esibizione O che fa Delle attività Da spavalderia Ma anzi Lo tiene Con i piedi Per terra Bene Non ci sono Altri aggiornamenti Dalla redazione Dunque ci fermiamo qui Termina la prima edizione Di Ora Tg Che avete visto Sul canale 89 Del digitale terrestre In Sicilia Di Ray TV Che avete seguito Sulla pagina Facebook Di Ray TV Dove potrete rivedere Queste e le altre Edizioni del giornale Che potranno essere riviste Pure sul sito internet www.raytv.it E sul canale Youtube Della televisione Prossimo appuntamento Con l'informazione Su Ray Questa sera Alle ore 19.45 Grazie per la vostra compagnia Ci lasciamo con il meteo Queste le previsioni meteo Per la giornata di domani Domenica 3 giugno Il sole splenderà Su tutta l'isola Con alcuni addensamenti Nuvolosi Non significativi Nella parte occidentale I mari saranno calmi O poco mossi Le temperature segnano Un leggero rialzo Decisamente estive Nella parte orientale Dell'isola 35 gradi a Siracusa 34 a Catania 29 Invece a Palermo 10 Grazie a tutti.